Ciao amici, come state? Siete ancora in vacanza o siete già rientrati? Ah, io sono ancora in vacanza, ma tra un po' mi tocca vedere il capo ufficio! Coraggio, ognuno ha il suo! Voglio salutare subito Veronica e Francesca che mi hanno scritto chiedendomi di salutarle nel video. Ciao Vero, ciao Franci, continuate così con i progressi che avete descritto nei commenti. Brave! Ma perché sei vestita da indiana oggi? Sto preparando la valigia delle Indie, cioè sto preparando la mia valigia perché presto parto per l'India. Ma a proposito, sapete cosa ho scoperto? Che la valigia delle Indie era un famoso treno che trasportava posta e viaggiatori tra Londra e Bombay. Pensate, passava anche da Brindisi e poi con un piroscafo arrivava in Egitto e faceva un viaggio lunghissimo fino in India nel periodo tra il 1870 e il 1914. A me queste cose affascinano tantissimo, a me lo dici? Io avrei sicuramente fatto quel viaggio se fossi vissuta in quel periodo. Nei primi anni ci metteva 100 giorni, poi si sono ridotti fino a 25, praticamente un mese di viaggio. Chi lo avrebbe fatto insieme a me? Lo scriva qui nei commenti che sono curiosa. Beh io ci dovrei pensare. Per fortuna io insieme al fantastico gruppo che si è unito a me in questo viaggio ci metterò meno di una giornata per arrivare in questo fantastico resort ayurvedico affacciato sull'oceano indiano. Tu vuoi farci venire l'invidia? Ma no! Organizzo questo viaggio a settembre e febbraio di ogni anno e chi vuole ha sempre la possibilità di venire con me. Io vi tengo sempre aggiornati su quello che faccio. Nel frattempo mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Poi condividete questo video, fate conoscere il canale a quante più persone possibile, così date il vostro contributo per fare crescere la comunità di chi ama vivere in modo trendy e naturale. In ogni caso ho già preparato i prossimi video così non vi lascerò soli mentre sono in India. Se no come farebbe la mia cara amica Teresa dalla Sicilia che saluto sempre. Ciao Teresa! Ecco i video di questa settimana. Mercoledì chiamate i vostri partner per guardare insieme il mio vlog su prostata e sessualità. Sarà un video molto importante secondo me. Venerdì per chi ha sempre fame nel pomeriggio come me vi farò vedere cosa mangio io con la mia merenda bruciagrassi. Serena ci farà snellire le braccia o tonificarle a seconda delle necessità con i suoi esercizi super facili e super efficaci. A proposito per chi le ha chiesto in descrizione qui sotto trovate il link alla playlist con tutti gli esercizi di Serena. Sabato qualche consiglio per le gambe gonfie. E domenica vediamo come affrontare lo stress da rientro con tanti consigli per mantenere a lungo il benessere estivo. E poi se ce la faccio cercherò di mandarvi in più dei miei travel vlog dall'India per condividere con voi tante cose in tempo reale. Bene comunque vi aspetto presto e vi abbraccio forte naturalmente. Buon viaggio a te Simona e a tutto il gruppo. Grazie ciao. Oggi sono un po' di corsa. Quando è che dico sono un vestito all'indiana?